Parliamo della Fondazione Ambrosianeum, cominciamo con il ricordare quella che la sua specificità è un punto di riferimento nel dibattito culturale di Milano da 70 anni. Sì, noi siamo nati nel 1946, sulle macerie proprio della guerra, quando bisognava ricostruire la città. L'intuizione dei fondatori, il Cardinale Schuster, Giuseppe Lazzati, Enrico Falchi e tanti altri intellettuali operatori dell'epoca era che Milano andasse ricostruita, con Milano il paese, non soltanto dal punto di vista economico, materiale, eccetera, ma andasse anche ricostruita dal punto di vista morale, ideale, della convivenza civile e soprattutto del legame fra grandi valori ideali, religiosi, cristiani e l'operatività di tutti i giorni. Una forte caratterizzazione laica quella della Fondazione? È fatta da laici che riconoscono e si riconoscono nella Chiesa, soprattutto in questo momento col dono che abbiamo di Papa Francesco, ma che vivono la laicità secondo l'insegnamento di Lazzati e cioè far bene il proprio mestiere cercando in ogni momento di declinare l'ispirazione evangelica con la propria professionalità, con la propria capacità di fare bene quello che si fa e nello stesso tempo all'interno di un contesto familiare, affettivo, relazionare che possa assicurare il bene comune. Quali sono le affinità che potevano avere allora i fondatori della vostra fondazione, quelle che avete oggi voi nel proporre il vostro messaggio culturale, la vostra proposta di riflessione? Con quello che sta succedendo oggi credo che la ricostruzione è un termine attualissimo oggi, certo, è una ricostruzione difficile rispetto alle macerie del 46, ma non possiamo non parlare di ricostruzione con quello che sta succedendo nel mondo, con quello che sta succedendo sulle nostre coste, con i profughi che arrivano, con quello che sta succedendo in questo momento nella politica, nella vita culturale e sociale di questo Paese, così preda di contrasti, di squalifiche, di incapacità di dibattere, di incapacità di cercare insieme, pur nelle diversità delle soluzioni che portino fuori da una crisi, che ormai è una crisi sempre più di carattere etico, sempre più di carattere culturale, di carattere di convivenza, di regole di convivenza, oltre che evidentemente di carattere economico. Come state celebrando questo anniversario? Lo abbiamo fatto con una serie di iniziative, una riguarda la coincidenza fortunata tra il centenario della nascita di padre David Maria Turold, un grande poeta, un grande frate, un grande uomo erede del Concilio, nello stesso tempo cercando di riproporre i valori fondanti nel nostro centro, con una serie di riflessioni di carattere storico, qual è stato l'apporto dei cattolici nella costruzione del Paese dopo la guerra, nello stesso tempo cercando di sognare insieme le linee di sviluppo, almeno per i prossimi 20-30 anni della città, del contesto lombardo e del Paese stesso.